l'aviazione nei paesi baltici verso la transizione all'idrogeno. Baltica Gen 5, 2024. Entro i prossimi tre anni nella regione del Mar Baltico dovranno essere gettate le basi per la transizione del settore aeronautico alle energie rinnovabili, compreso l'uso dell'idrogeno. È quanto prevede il progetto internazionale BSRI Airport, che unisce 16 aeroporti, compagnie aeree, istituti di ricerca e aziende tecnologiche della Scandinavia, dei paesi baltici, della Polonia e della Germania. Coinvolgendo anche 24 organizzazioni associate. Per la parte lettone sono coinvolti nel progetto come partner l'Aeroporto di Riga, l'Associazione Lettone per l'Idrogeno, l'Università Lettone di Bioscienze e Tecnologie e il fornitore di carburante per aerei sia Gulfster Amoil, mentre fra i partecipanti associati figurano la Compagnia Aerea Lettone Air Baltic, l'Aeroporto di Liepaia, l'Agenzia per l'Aviazione Civile e il Ministero dei Trasporti. L'obiettivo di BSRI Airport è quello di creare i presupposti per l'adattamento delle infrastrutture aeroportuali per i voli aerei alimentati a idrogeno, e preparare gli aeroporti allo stoccaggio, al trattamento e alla consegna dell'idrogeno verde come futura fonte di energia nel settore dell'aviazione entro i prossimi tre anni. Il progetto vuole rilanciare per il futuro il traffico aereo regionale e collegare meglio le regioni del Mar Baltico con i centri aeronautici. Per questa ragione nella partnership sono coinvolti anche diversi aeroporti più piccoli e compagnie aeree regionali. Una componente importante della strategia di sviluppo dell'aeroporto di riga è rappresentata dagli investimenti in innovazione e sostenibilità. LL progetto BSRI Airport è un passo importante verso la trasformazione energetica nel settore dell'aviazione. Molte domande devono ancora trovare risposta prima dell'uso regolare dell'idrogeno. Siamo quindi lieti di collaborare con gli aeroporti della regione del Mar Baltico e gli altri partner nel progetto di cooperazione delle aziende del settore aeronautico. Al fine di trovare insieme soluzioni per la sostenibilità dell'aviazione e la possibilità di ridurre l'impatto del settore sul cambiamento climatico, ha affermato Laila Odia, presidente del CDA dell'aeroporto di Riga. L'AOE sosterrà il progetto BSRI Airport attraverso il programma Interreg per la regione del Mar Baltico, stanziando per i diversi partner circa 3,8 milioni di euro. Lo scopo del progetto è gettare le basi per l'utilizzo della tecnologia dell'idrogeno nel settore dell'aviazione. L'idrogeno verde gassoso è inizialmente adatto come carburante per i voli a corto raggio e quindi particolarmente adatto per le esigenze dell'aviazione nella regione del Mar Baltico. E già a partire da quest'anno si potrebbe prevedere un traffico aereo regolare con aerei regionali fino a circa 80 posti, si legge nel progetto BSRI Airport. Il budget totale del progetto BSRI Airport è di 4,8 milioni di euro. Per i lavori dell'aeroporto di Riga sono previsti circa 420 mila euro nell'arco di tre anni. L'aeroporto di Riga sarà coinvolto nella ricerca e nello sviluppo del quadro giuridico per l'introduzione della tecnologia dell'idrogeno nei processi di lavoro della manutenzione degli aeromobili e delle attrezzature dell'aeroporto, nella sperimentazione degli aeromobili alimentati a idrogeno e delle attrezzature di manutenzione dell'aeroporto, nella comunicazione dei risultati del progetto e nello sviluppo di un piano di sostenibilità per i risultati del progetto. Fonte, LSN.